Parrocchie prese di mira dai più poveri per un aiuto economico, per essere ascoltati, per ricevere un pacco di pasta, ma soprattutto per fame di lavoro. Una situazione drammatica, quella vissuta dalle famiglie dell'agro nocerino sarnese, che di riflesso si riversa sulla Caritas diocesana, chiamata ad occuparsi dei problemi più difficili. Un quadro a tinte fosche, quello che traccia Don Alessandro Cirillo, direttore della Caritas di Nocere Inferiore Sarno. Attualmente la povertà crescente nell'agro nasce essenzialmente dalla mancanza di lavoro, della perdita di lavoro. Il lavoro è diventato oggi una vera e propria emergenza, perché con il lavoro viene d'obbligo dignità per la persona, sostegno alla famiglia, speranza per i figli. Tutto questo sta avvenendo terribilmente meno anche qui nell'agro. Una situazione molto controversa, dove non sempre spicca purtroppo l'impegno delle istituzioni locali. I comuni infatti sembrano essere palesemente in difficoltà. E sempre più spesso capita che gli assistenti sociali chiamino la Caritas per ricevere aiuto. Noi abbiamo continue telefonate dai servizi sociali dell'agro, posso citare Nocera, Comune, posso citare Angri, posso citare Pagani, Sarno, le grandi città dell'agro, che chiedono a noi Caritas di accogliere persone senza fissa dimora. Ci chiedono di pagare bollette. Cioè io mi chiedo, fin quando noi possiamo, dove sono i servizi sociali? L'altro giorno parlavo con un assistente sociale. Lei mi diceva, noi siamo impotenti, non possiamo fare più nulla. Ma perché dal piano di zona non ci si muove? È emblematica l'impasse che caratterizza il piano di zona S1. Da qui l'appello ai sindaci del comprensorio. Smettetela. Cercate di trovare un'intesa. Non si può andare avanti giocando sulla pelle della gente. Dei servizi vanno dati, ci sono stati dei fondi, vanno dati, vanno spesi, rendicondati. Perché non possiamo dare a questo agro nocerino sarnese una speranza? Mi è rammarica l'ultima lettera e le dimissioni di Bartiromo, perché non conosco nemmeno questa persona. Sono una persona rispettabilissima, ma io credo che bisogna fare qualcosa. Ai sindaci chiedo, cercate l'unità e la riconciliazione. Mettete, come ha ricordato Papa Francesco, mettete la persona al primo posto. Fuori giochi politici, fuori tutto quello che può stare dietro alla politica, ma cercate di mettere al più presto al centro la persona e chi vive nella sofferenza e nella povertà.